Novena a Santa Rita da Cascia Si recita interamente per nove giorni consecutivi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti onoriamo, o Santa di Cascia, per la tua fedeltà alle promesse battesimali. Intercedi per noi, presso il Signore, perché viviamo con gioia e coerenza la nostra vocazione alla santità, vincendo il male con il bene. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti onoriamo, o gloriosa Santa Rita, per la tua testimonianza di amore alla preghiera in tutte le età della vita. Aiutaci a rimanere uniti a Gesù, perché senza di Lui non possiamo far nulla, e solo invocando il suo nome possiamo essere salvati. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti onoriamo, o Santa del Perdono, per la fortezza e il coraggio che hai dimostrato nei momenti più tragici della tua vita. Intercedi per noi, presso il Signore, perché superiamo ogni dubbio e paura, credendo nella vittoria dell'amore, anche nelle situazioni più difficili. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti onoriamo, o Santa Rita, esperta della vita familiare, per l'esempio di virtù che ci hai lasciato, come figlia, come sposa e madre, come vedova e suora. Aiutaci, perché ciascuno di noi valorizzi i doni ricevuti da Dio, seminando speranza e pace, attraverso il compimento dei doveri quotidiani. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti onoriamo, o Santa, della spina e della rosa, per il tuo amore umile e vero a Gesù crocifisso. Aiutaci a pentirci dei nostri peccati, e ad amarlo anche noi, con i fati e nella verità. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera litanica Il frutto dello Spirito è l'amore. Tu, Rita, lo hai visuto. Ottienilo per noi. Il frutto dello Spirito è la pace. Tu, Rita, l'hai visuta. Ottienilo per noi. Il frutto dello Spirito è la pazienza. Tu, Rita, l'hai visuta. Ottienilo per noi. Il frutto dello Spirito è il perdono. Tu, Rita, lo hai visuto. Ottienilo per noi. Il frutto dello Spirito è il dominio di sé. Tu, Rita, lo hai visuto. Ottienilo per noi. Il frutto dello Spirito è il frutto dello Spirito è la speranza. Tu, Rita, l'hai visuta. Ottienilo per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiera conclusiva Signore Gesù, oggi, attraverso le mani di Santa Rita, noi ti presentiamo le nostre situazioni personali e il nostro immenso desiderio di bene per le nostre famiglie e le nostre comunità. Manda su di noi, o Cristo Gesù, lo Spirito Santo, perché i nostri atteggiamenti e le nostre parole, come quelli di Santa Rita, siano ispirati al tuo Vangelo e guidati dalla tua grazia. Tu sei Dio e vivi ereni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Per intercessione di Santa Rita, ci benedica Dio Onipotente. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.